Come state, un saluto a tutti ben ritrovati, invito come sempre a commentare numerosissimi qui sotto, a iscrivervi, mi raccomando, e lasciare un bel like. Scaricate anche gratuitamente tra il numero 10, perché se non arriva novità importanti sul Milan, qui sotto c'è il link. Allora, andiamo subito a commentare una novità importante, che è stata raccontata per prima da Tutto Sport, che trova conferme. Perché sabato, Moncada, dirigente capo dell'area tecnica del Milan, è andato a seguire un giocatore, dopo l'infortunio di Kalulu, che fa proprio il difensore. E' Liod Kelly, giocatore inglese di 25 anni, piede mancino, alto 1,91. Profilo che sta seguendo per gennaio, considerando che lui ha un contratto di scarenza con il Bormaf a giugno, quindi si può spostare davvero per un piccolo, piccolo, piccolo indennizio. Profilo dal piede mancino, bravo sulle palle alte, che gioca appunto in Championship, dopo, scusate, in Premier League, dopo delle difficoltà, comunque, perché comunque, scusate la ripetizione, lui aveva fatto 10 partite nell'Under 21 inglese, ma non ha mai approdato nella nazionale maggiore, quindi prometteva bene, si è un po' fermato. Ora, appunto, dovrebbe spostarsi nella finestra di gennaio o al più tardi in estate, non rinnoverà il suo contratto. Il Milan cerca un difensore con quelle caratteristiche, forte anche sulle palle alte, possibilmente piede mancino, e che non costi molto, e chissà che non possa essere il Tomori di qualche anno fa, anche se Tomori aveva avuto un percorso più convincente. Seguito e promosso nella gara di sabato contro il Barley, con lui che aveva fatto una partita da, secondo Sofascore, 6.8. Ditemi che ne pensate, può fare anche il terzino, magari potrebbe fare due cose in una. Commentate qui sotto, se lo conoscete, altrimenti documentatevi e commentate successivamente. Blitz di Moncada, significativo, vediamo se ha superato l'esame o se serviranno altri esami, magari altre partite, o comunque una contrattazione che deve essere ancora fatta. Commentate, ditemi il vostro punto di vista. Ciao!